15 aprile 2021 bentornati alla settimana degli hero vod questa settimana si chiama ma3 oscar timores sono 8 run for time con 11 hand release push up 30 walking lunges poi ancora 8 hand release push up e 19 sit up è tutto per oggi ci vediamo domani per l'ultimo vol della settimana